...dolce, che ha il compito di farci, che legge di farci, che si svolga bene, limitosamente, che la Chiesa, l'uomo saicato, sia deconosso, sia rispondente alle esigenze dell'accelerazione di Tocchi, e quindi, tra tutti, la Santa Messa, l'accelerazione dell'Operestia, ecco, fluidamente in questo posto. E quindi, mi sa già, non è stato il suo servizio, quindi per questo ringrazio, ringrazio sinceramente, la Chiesa, mentre vorrei, nel quinto dell'accelerazione di Tocchi, che alta số Il nostro servizio è compagliato. E anche questo è un servizio importantissimo. Ecco, quindi, voi vi dovreste dire, chiamatevi a svolgere il mondo che non è pura di materiale. O che vi ho avuto, quindi, ma è che io avuto qualcosa di rispettare la sua vita di un'esercizio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.